Buongiorno a tutti, buona giornata e buon inizio di settimana a tutti, a me e a voi. Ieri pomeriggio dopo pranzo ho visto una bellissima partita, in particolare come cita il titolo si è trattato di un Christmas Holiday, partita dal giorno di Natale del 25 dicembre 2015 il derbissimo di Los Angeles tra i Lakers e i Clippers, vinto dai Clippers 94-84 purtroppo in quella partita non basto il contributo direi importante come al solito del nostro beniamato purtroppo anzitempo compianto Kobe Bryant, saluti della sua caro Kobe che insomma insieme ai suoi compagni di squadra cercò di fare il possibile per riuscire almeno ad agguantare i fratelli e i cugini come vogliamo nel punteggio però purtroppo non fu così, di fatto diciamo che sin dal primo periodo come ho potuto vedere ieri la partita è stata un po' cioè a senso unico no, assolutamente no però ha visto sempre il vantaggio nelle mani dei Clippers comunque onore e merito all'impegno di tutte le due squadre perché in quell'occasione dietro vita una bella partita nel giorno di Natale quindi chiudiamo, grande partita di quel giorno di Natale cari saluti a voi tutti cari amici e saluti dalla sua Kobe Bryant e alla sua figlia e saluti anche alla famiglia Bryant buon proseguimento di giornata buona settimana e alla prossima ciao